Ha accettato l'incarico, ma una settimana dopo ha rinunciato, lasciando sette comuni delle Madonie scoperti. Su 258 medici che l'ASP di Palermo ha convocato, attingendo dalla graduatoria regionale, nessuno alla fine ha voluto occuparsi dei piccoli pazienti delle Madonie. Rachele Cunzolo, però, aveva risposto alla chiamata dell'ASP di Palermo lo scorso 28 gennaio, accettando l'incarico di svolgere il servizio pediatrico per i comuni di Alimena, Blufi e Bonpietro. La pediatra ragusana, ma di origini alimenesi, avrebbe dovuto iniziare il servizio il prossimo 12 febbraio, ma ieri ci ha ripensato, lasciando ancora una volta vacante la sede. I bambini dei sette comuni madoniti restano ancora una volta senza un dottore. Per qualsiasi emergenza i genitori dei piccoli si vedono costretti a rivolgersi all'ospedale Madonna Santissima dell'Alto di Petralia Sottana, dove c'è una guardia medica attiva 24 ore su 24 e dove anche il primario è costretto a fare i turni come colleghi. I vertici dell'ASP di Palermo, primo tra tutti Antonio Candela, fanno sapere che sono già al lavoro per trovare una possibile soluzione a una vicenda complicata e paradossale. Le difficoltà riguardano anche i comuni delle vicine Petralia Sottana, Petralia Soprana, Gangi e Geraci Siculo. Ed è stato proprio il direttore del distretto sanitario di Petralia Sottana, Gianfranco Licciardi, a trasmettere una nota ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale, comunicando che anche l'unica specialista che aveva accettato l'incarico ha dato poi forfè. Nei giorni scorsi era stato lanciato anche un appello al presidente della regione, Nello Musumeci.